Grazie Presidente, credo che il punto oggi sia questa contestazione rispetto al fatto che il Presidente della Commissione Mobilità ha sottolineato questa nuova disciplina come un evento storico. Io credo di poter interpretare il senso che il Presidente ha voluto dare a questa accezione rispetto alla difficoltà che questa maggioranza ha avuto nel dover trovare la quadra rispetto al marasma presente nel quadro normativo nazionale e regionale per poter semplicemente dire ai cittadini potete parcheggiare la bicicletta all'interno dei condomini. Una cosa talmente semplice come questa ha avuto necessità di due anni per poter superare tutti gli ostacoli che giustamente gli uffici pongono perché gli uffici rispondono alla normativa vigente. Oggi ci viene contestato che non possiamo neanche dire che è una giornata storica e ci viene contestato esattamente da chi quelle norme le ha pensate, votate e realizzate nello stesso momento in cui continua magari ad andare in giro, oggi siamo anche in campagna elettorale, magari a parlare di contrasto all'inquinamento atmosferico, scusate, mentre ad esempio proprio ieri il governo centrale è stato bacchettato dall'Unione Europea perché nonostante una strategia di un anno fa non ha espresso nessun decreto attuativo, ripeto, relativamente al problema dell'inquinamento atmosferico per cui la ciclabilità è sicuramente una delle alternative visto che tutti i progetti che presentano le amministrazioni in sede europea ricevono il massimo conteggio proprio per l'abbattimento del CO2. Ecco, all'interno di questo tipo di procedura di percorso noi ci troviamo di fronte a un governo che non solo non fa i progetti ma neanche fa i decreti attuativi rispetto alle linee strategiche che pensa. E poi oggi il Ministro Calenda viene a dire che noi siamo gli incompetenti, gli incapaci, con un'arroganza incredibile all'interno di un tavolo che evidentemente è servito per fare esclusivamente attività politica Antec adesso ha detto che se ne va insieme a Zingaretti, un altro fenomeno che a livello regionale le leggi sulla ciclabilità proprio non si sono mai viste, eppure il problema dell'inquinamento atmosferico è un problema che abbiamo da decenni, il problema degli spazi per la mobilità alternativa, quella veicolare, è un problema che abbiamo da decenni e in questa delibera per poter parcheggiare una bicicletta all'interno di un condominio abbiamo trovato 3.000 ostacoli quando per poter parcheggiare un'auto privata all'interno di un condominio non c'è mai stato nessun tipo di ostacolo. Questa è una vergogna, il 5 Stelle si sta candidando a governare anche per cambiare la disciplina esattamente per poter fare in modo che rispetto alle esigenze dei luoghi in cui viviamo, rispetto alle esigenze dei cittadini ci sia un reale cambiamento che vada oltre le parole. E scusate se la fatica che ci abbiamo messo per due anni semplicemente per poter cambiare questa piccola cosa oggi noi insistiamo essere un risultato storico. Grazie